Musica Salve a tutti ragazzi io sono Legomaster Oggi siamo tornati con un nuovo video su Fortnite Per provare a fare il mio record di kill della stagione 6 capitolo 2 Che in questo momento è 15 kill Mi voglio anche scusare se non ho pubblicato video per circa un mese Ma quest'anno ho gli esami terza media e mi sono dovuto concentrare un pochettino di più sulla scuola Poi questa settimana invece sono andato al Mario per il mio compleanno E quindi non avevo con me la Playstation per poter registrare Quindi direi di andare in partita e iniziare con le kill Ok siamo atterrati a lago Cioè non a lago, a parco Comunque prendiamo questa cesta Ok filini E Prendiamo qualche altra arma Vediamo se troviamo qualcosa No Non troviamo niente Comunque Qui già ho visto qualcuno Facciamoci un po' di mazzo e lo andiamo a pushare Sempre se non ci pusha prima lui Ok ci pusha prima lui E quindi Guardatelo come lì con la mira con l'arco Guardatelo come lì con la mira con l'arco Ok 46 E 31 Sicuramente non si sta raccolando E' andato dentro casa Buono questo Ok ci prendiamo questo e ci prendiamo questo Quindi cilini E si va a pushare Vediamo se qui ha lasciato qualcosa No Ok Medikit Ok quindi medikit E si va a pushare Ok Ok l'ho disfatto E Prendiamo sta cesta Buono Lo prendo E ci facciamo questo shieldone anche Ok Andiamo Avevo sentito Spari qui Ma Non vedo più nessuno Mi faccio lanciare un po' di mazzo E poi Ma no Eccolo C'è lì Di realtà non c'è nessuno Però C'è lì Quindi Presumo che Abbiamo fightato lì Ok 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 Niente Direi che ci vediamo appena Troviamo qualche persona Ok Stanno sparando qui davanti Prima colpito A quello dietro Aspetta 68 No Non è vero Ok Però lì sotto Poi c'è un'altra C'è un'altra Ok Poi c'è un'altra Ok Poi c'è un'altra Ok Vai Pusciare quel'altra Ok Ok C'è un'altra Ok 30 Mamma mia Mi sa che siamo morti Grazie niente siamo morti ci vediamo nella prossima partita arrivati al lago languido speriamo di riuscire a fare il nostro record il mio record di film dunque c'è subito qui qualcuno una cesta andiamo a pushare ancora perché quando sono atterrato ho visto che ci sono poco tanti un po' tanti di player quindi questa cosa mi prende no 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 l'aveva vista terza partita ok siamo atterrati al parco pacifico facciamoci lo scudone e andiamo a pushare qualcuno ok 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 Grazie a tutti Questo video finisce qua Iscrivetevi al canale Lasciate il like a questo video E a tutti gli altri video Attivate anche la campanella Per non perdervi nessun video E nessuna live Purtroppo non siamo riusciti a fare Il mio record di kill Nella season 6 Ma ci proveremo nella season 7 Tra qualche giorno Vi volevo dire di iscrivervi al canale Perché grazie a youtube Ho scoperto che più dell'80% Delle persone che guarda i miei video Non è iscritta al canale Quindi iscrivetevi E attivate anche la campanella Quindi da Lego Master è tutto E noi ci vediamo Con un prossimo video O una prossima live Nella season 7 Ciao 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 Ciao